Porta aperte oggi all'Istituto Scolastico Paolo Epiliani Giudici e nel plesso di Piazza Salandra dell'Istituto Comprensivo San Francesco, retto da Giovanna Palazzolo, nell'ambito dell'Open Day. Una giornata di festa per docenti, alunni e genitori, un coinvolgimento a 360 gradi. È stata l'occasione per far conoscere i nuovi indirizzi presenti nell'Istituto, i profili e gli sbocchi professionali, le strutture, i laboratori e le varie attività formativa. Per i ragazzi che sono tutti orgogliosi di far vedere i frutti dei laboratori perché noi di pomeriggio, aprendoci al territorio, abbiamo istituito dei laboratori a cui possono partecipare tutti i ragazzi e tutti i bambini della zona circostante. Durante la giornata di oggi i piccoli alunni hanno partecipato alle lezioni delle classi e alle esperienze didattiche. L'Istituto Comprensivo permette ai bambini e ai ragazzi di crescere con un unico progetto formativo che li accompagna dai due anni e mezzo ai 14. Abbiamo tanti bei progetti, noi abbiamo due corsi a indirizzo musicale che sono il nostro fiore all'occhiello. In più siamo in forte crescita riguardo all'infanzia e alla primaria.